come spiega questa affezione di insomma personaggi del popolo si chiama mi diventico sempre il nome michele michele pennello pennello e lui castal di rosario castal di rosario mimmo lo sai meglio di me si chiama empatia non è un qualcosa che si può acquistare sui libri o sulla scuola è un epidermi e vediamo lo vediamo un bacio a visconti un bacio a visconti